Siamo qua con Luca Scinto, vincitore di questa classica nel 95. Come al solito, gara d'attacco per il vostro team? La gara d'attacco, con i corridori che abbiamo, tanto attacco no, dobbiamo correre bene, ci sono parecchi corridori forti, Camaiore è tornato ai livelli in cui la corsa doveva essere, molti corridori forti, tante squadre pro tour, anche straniere, veramente una bella corsa, vincere oggi veramente sarebbe molto importante. Chi sarà il vostro capitano? Ma credo, sai io non mi piace avere o dire capitani, abbiamo tre o quattro corridori che possono puntare a far bene, uno di quelli senza altre è Sant'Ambrogio, vediamo come si svolgerà la corsa in finale, e sperando che corridori forti come Sagan e Company, che sono molto veloci, non si stacchino prima della salita, perché arrivare con loro sarebbe quasi impossibile vincere. Però proviamo a fare una gara di attacco e in finale vediamo. Grazie mille. Grazie.